Buongiorno da Ultima Tg, aggressione violenta questa mattina ai danni di sette vigili urbani erano impegnati in un'operazione anti-abusivismo quando sono stati letteralmente attaccati da una ventina di ambulanti naturalmente illegali di origine magrebina, ci racconta tutto Simona Scandura Ancora una volta il salotto buono della città si trasforma in uno scenario di degrado stamattina l'ennesima aggressione ai vigili urbani impegnati in un'operazione di anti-abusivismo e anti-contraffazione è accaduto in via Pacini, poco dopo le 10 vicino a Corso Sicilia le pattuglie che arrivano per il controllo sono tre a bordo ci sono sette vigili urbani, scarpe, borse e portafogli contraffatti sono sotto gli occhi degli agenti della Nona e Sicurezza Urbana che stanno per effettuare il sequestro a circondarli immediatamente sono circa 20 ragazzi di origine senegalese inizia così l'aggressione, i vigili hanno riportato contusioni, gli aggressori invece sono riusciti a scappare a commentare l'accaduto è anche il comandante dei vigili urbani Stefano Sorbino che ha ricordato anche la carenza di organico da parte della Polizia Municipale ogni giorno impegnata nel territorio catanese carenza di organico e la Polizia Municipale ma anche altri problemi su tutto il fatto di non riuscire più a garantire una situazione di ordine pubblico e di disagio questo ovviamente provoca la reazione da parte dei cittadini sia dei residenti del Corso Sicilia e delle vie limitrofe ma anche di quegli ambulanti che invece operano legalmente tutti i giorni noi abbiamo sentito le reazioni, Damiano Scala il problema è questo che noi abbiamo cercato sempre ma non solo in questi ultimi anni da sempre perché qua da mio padre adesso ci sono io abbiamo cercato sempre di entrare nelle regole e nel rispetto di tutti il problema adesso è il degrado che c'è sia per chi lavora ma anche per chi abita qua perché la sera ci sono le stesse condizioni che vedete la mattina solo che la mattina ci sono i lavoratori e la sera le problematiche ce l'hanno chi abita nei dintorni del mercato anche perché purtroppo andando noi via alle due perché noi finiamo alle due le persone di colore restano qua a lavorare quindi c'è un altro problema per chi lavora qua la sera qua è impossibile anche passeggiare più e quindi è un problema sociale più che altro oltre che lavorativo e oggi avere problemi di lavoro è il primo problema che abbiamo tutte le famiglie è una zona dove i commercianti che sono in regola non ce la fanno più l'economia di questo territorio è andata anche adesso ad essere immarginata e abbiamo la difficoltà la grossa difficoltà di poter creare le condizioni proprio per la sicurezza per la quiete pubblica come l'ultima volta qualche mese fa è accaduto con alcuni extracomunitari che hanno aggredito alcuni italiani adesso qui è diventata diciamo e vige la legge del più forte già noi stiamo combattendo con la crisi dei centri commerciali e cose varie un episodio del genere ha fatto scappare tutte le persone che ipoteticamente ipoteticamente devono comprare quindi i clienti non si no no hanno paura e scappano chiaramente vedendo tutta questa guerriglia e poi creano disordine c'è tutto un assieme di cose che bisogna sistemare al più presto perché qua ripeto ancora un'altra non voglio essere repetitivo prima o poi scapperà il motto giornata decisamente impegnativa oggi per il governatore della regione siciliana Nello Musumeci che è stato a Catania in tour prima nella sede di Confindustria per dialogare con gli imprenditori e successivamente alle ciminiere per un premio ai comuni virtuosi che riescono a garantire la raccolta differenziata su basi, su percentuali decisamente efficaci ma noi ci colleghiamo proprio con Damiano Scala che è riuscito a raggiungere Nello Musumeci e si trova alle ciminiere Damiano buongiorno buongiorno direttore buongiorno a tutti i telespettatori di Ultima TV sì come dicevi una agenda assolutamente fitta di impegni per il governatore della Sicilia appuntamento dopo appuntamento ha spiegato un po' e ha parlato un po' dei più grandi problemi che attanagliano la Sicilia non ultimo quello dei rifiuti lui alle ciminiere, lo vedete la sala che fino a poco tempo fa ha accolto il meeting in cui sono stati premiati i comuni, tutti i comuni siciliani più virtuosi ha ribadito comunque la necessità di aumentare la raccolta differenziata e di combattere il problema dei rifiuti anche nei grossi centri prego la regia se pronta di poter mandare l'intervista di Nello Musumeci sui rifiuti siamo l'ultima regione in Italia e abbiamo il dovere di recuperare il terreno perduto per farlo serve il coinvolgimento dei comuni e delle comunità la consapevolezza della gente è che fare la differenziata significa non solo compiere un atto di civismo quello del cittadino è uno dei mestieri più difficili ma significa anche puntare al risparmio perché più alta è la differenziata minore è il costo delle tasse che bisogna pagare sui servizi di raccolta dei rifiuti siamo già a buon punto quasi la metà dei comuni siciliani ha superato il 50% la legge dice il 67% ma altri hanno l'ambito l'80% eppure ci sono le grandi città Palermo, Messina, Catania e molti altri centri ancora dove la differenziata è al 10, 12, 15% quindi da un lato premiamo i sindaci e i comuni che costituiscono modello e esempio dall'altra stimoliamo quelli che ancora non l'hanno fatto per procedere in questa direzione la nuova legge sulla riforma delle province prevede che il circuito, il ciclo dei rifiuti nasca e muoia in una stessa provincia non voglio vedere più autocompattatori che portano spazzatura da una parte all'altra della Sicilia con costi esorbitanti in ogni provincia deve esserci l'impianto di smaltimento in ogni provincia ci deve essere la discarica ogni provincia deve responsabilizzarsi direbbe mia nonna ognuno si chianci i suoi rifiuti ecco abbiamo sentito il presidente Musumeci che parlava di rifiuti prima ancora stamattina ha avuto un incontro in Confindustria col presidente Catanzaro il presidente di Sicilia Industria e con Biriaco al centro della questione ha esordito Catanzaro il fatto che la Sicilia non può essere considerata come un enorme ZES una zona economica speciale per far ripartire la regione bisogna anche guardare le consorelle e le altre regioni d'Italia più virtuose e si è rifatto moltissimo alla Lombardia per attivare la Sicilia per far ripartire la regione Sicilia serve soprattutto più persone che producono più vicinanza delle istituzioni sul territorio ma soprattutto un'economia che gira raccolte queste segnalazioni il presidente Musumeci ha garantito tutto l'appoggio dell'Ars anche se non ha mancato di dare una frecciatina così alla regione ribadendo che affinché delle modifiche affinché ci possa essere un cambiamento occorre testuale di parole occorre che queste riforme siano approvate dal Parlamento oggi la situazione del Parlamento è disarmante ed è lo stesso disarmante trovarsi di fronte a dei muri che possono sembrare invalicabili ma adesso sulla questione presentiamo il presidente Nello Musumeci Presidente una battuta oggi l'incontro con Confindustria tacciamo un bilancio di questo tavolo di dialogo abbiamo capito che serve guardare alle imprese come unico strumento di ricchezza e di crescita sul territorio mentre in passato si è pensato essenzialmente al denaro pubblico come ammortizzatore sociale abbiamo già messo in bando 730 milioni di euro in questi quattro mesi per le piccole e medie imprese dobbiamo lavorare sull'IRSAP che non è stata una soluzione migliore del male dobbiamo intervenire sulle aree industriali come farlo appena la regione avrà definito la sessione di bilancio ci confronteremo con le organizzazioni di categoria e cominceremo a parlare di industriali di agricoltori di commercianti di turismo di artigianato di pesca con interventi monosettoriali perché la crisi è devastante e non c'è un solo settore della pubblica amministrazione che venga risparmiato da questa crisi che ormai è diventata sfittica e costringe le imprese a vivere in una condizione di assurdità Lei ha ribadito fra 5 anni non mi ricandido più il consenso non va inseguito va conquistato Sì certo il consenso può essere aggombrato e può essere conquistato io preferisco il consenso conquistato Il consenso conquistato a margine della conferenza Nello Musumeci ha ribadito fra 5 anni non mi candiderò più ormai la mia vita politica finito il mio ruolo da governatore finisce qui però prima voglio formare la nuova classe politica di giovani dei giovani che prendano come modello gli esempi le istituzioni e anche il tessuto sano della regione Direttore se non ci sono domande da studio dalle ciminiere di Catania sarebbe tutto ti restituirei la linea No, non è ancora tutto Damiano ti fermo solo per un secondo perché tu eri presente al meeting questa mattina in Confindustria diciamo che dalle parole di Musumeci si evince che è stato un incontro interlocutorio perché è vero che si parla di questi 730 milioni che saranno destinati agli imprenditori quindi alle industrie però poi in realtà non ci sono dati oggettivi noi non abbiamo avuto modo di sentire ovviamente le parti industriali lo faremo naturalmente però sembra che ci sia stato soltanto un come dire primo approccio in attesa che poi maturino eventi decisamente migliori Assolutamente sì si è parlato soprattutto del gettare delle basi per puntare allo sviluppo andare avanti per tentativi è una situazione che non porta a nulla di buono e non porta a nessun tipo di risultato duraturo la Sicilia per troppo tempo è stata considerata una specie di ZES zona economica speciale deve guardare ora a tutte quelle regioni invece che importano le materie prime e puntano moltissimo sulla lavorazione e l'esportazione non a casa ha parlato proprio della Lombardia una delle poche regioni italiane industrialmente e artigianalmente sviluppate benissimo Damiano grazie per i tuoi collegamenti in diretta all'ultimo dalle Ciminiere chiaramente vedremo che cosa vorrà dire essere definiti zone economiche speciali per poi poter mettere in pratica realmente quelle possibilità che consentano ad una ripresa dello sviluppo dal punto di vista imprenditoriale noi parliamo e torniamo a parlare però di rifiuti di scariche più grandi e incentivi alla differenziata sono diciamo questi gli elementi che caratterizzano il piano che arriva proprio dalla regione siciliana e questo per contrastare l'emergenza ce ne parla Simona Scandura i rifiuti sono davanti all'ingresso degli istituti scolastici e continuano i roghi notturni ad illuminare le strade desolate di Palermo l'emergenza rifiuti non si placa e il rischio di problemi igienico-sanitari è alta l'aggiunta regionale intanto approva il piano rifiuti dopo mesi di attesa e si sbloccano così anche i fondi comunitari fermi a Bruxelles 170 milioni destinati a contrastare l'emergenza l'assessore ai rifiuti e all'energia Alberto Piero Bon è chiaro no categorico ai termovalorizzatori revisione delle tariffe per il conferimento in discarica e poi raccolta differenziata si punta al 65% entro il 2013 ma la prima verifica sul fronte è per il 2019 quando la raccolta dovrà raggiungere il 35% 20 punti percentuali in più rispetto ad oggi una crescita che dovrebbe essere agevolata grazie alle campagne di sensibilizzazione e all'uso di strumenti informatici previsto per artigiani e negozi l'obbligo di indirizzare gli imballaggi in un circuito di smaltimento e soprattutto è stato annunciato l'aumento di impianti di compostaggio attualmente sono 8 quelli in funzione su 18 esistenti e una discarica pubblica per ogni provincia 4 delle 10 per ora in funzione esauriranno così la loro capienza entro l'anno in ultimo è previsto il trasporto fuori dalla Sicilia in un massimo di 60.000 tonnellate al mese di rifiuti urbani non pericolosi parliamo adesso del commissariamento dello scioglimento chiedo scusa del comune di Santo Stefano di Camastra che è stato sciolto per una serie di ragioni che sono legate ad ingerenze della criminalità organizzata e questo in riferimento alla operazione antimafia Vultur cominciata nel 2013 le elezioni amministrative del 2013 a Camastra piccolo centro della provincia di Agrigento sono state condizionate dalla mafia e questo è il dato di fatto che emerge dal consiglio dei ministri che riunitosi martedì sera ha accolto la proposta del ministro dell'interno Marco Minniti deliberando lo scioglimento del consiglio comunale del paese per ingerenze con la criminalità organizzata una notizia che per molti con in testa il primo cittadino Angelo Cascià suona come un fulminaccio al sereno ma che già dal 2016 appariva del tutto prevedibile la vicenda è legata all'operazione antimafia della squadra mobile di Agrigento Vultur che nell'estate 2016 azzerò gli assetti della locale famiglia mafiosa dal provvedimento firmato dall'allora GIP del tribunale di Palermo Giuliano Castiglia emergeva fin da subito grazie all'attività investigativa delle forze dell'ordine un chiaro tentativo di inquinare le elezioni del paese da parte della locale famiglia mafiosa su queste dinamiche praticamente fin da subito questura di Agrigento e prefettura si erano attivate aprendo un fascicolo che sarebbe poi sfoggiato negli atti di accesso ispettivo al comune da parte della commissione nominata dall'allora prefetto Diomede che di fatto porta oggi allo scioglimento del consiglio comunale e di tutti gli organi eletti democraticamente tra le accuse mosse dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo a Rosario Meli boss indiscusso del paese già condannato nel 93 per mafia e oggi sotto processo con altri esponenti ed il figlio per questa vicenda ci sarebbe anche quella di aver favorito l'elezione del sindaco Angelo Cascià intimidendo il suo competitor elettorale Gaetano Provenzani ma anche alcuni aspiranti consiglieri comunali per la cronaca Angelo Cascià stravinse la tornata elettorale del 2013 con il 61 per cento di preferenze a Camastra in cui si sarebbe dovuto tornare alle urne a giugno adesso si attende la nomina di un commissario straordinario che si occuperà di guidare l'amministrazione per i prossimi 18-36 mesi chiedere scusa a tutti i camastresi per tutto l'eventuale non lo so per quello che potrà succedere a questo comune però mi sento di dire ai camastresi che io da parte di questa amministrazione non si è mai minimamente cercato di arrecare danno a questo anzi si è cercato sempre di custodirlo e di cercare di comunque nella spesa di essere sempre molto oculati e vigilanti Andiamo a Pachino perché questa mattina si è tenuta la marcia della legalità dopo l'inquietante messaggio intimidatorio recapitato da una delle principali aziende del piccolo centro del Siracusano a cui è stato bruciato il capannone si è mobilitata la società civile per dire do ad ogni forma di criminalità Salvo Falcone Sfila per le vie principali di Pachino il corteo antimafia per dire basta ogni genere di oppressione che vede vittima un territorio fortemente evocato rispetto alla produzione dell'ortofrutta un territorio leader per quanto concerne la produzione del pomodorino ma anche per tutte le altre produzioni del cosiddetto oro verde e oggi per dire basta alle minacce agli incendi e agli attentati è scesa in piazza la società civile sono scesi in piazza gli studenti un corteo lunghissimo formato anche dalle autorità con in testa il sindaco di Pachino Roberto Bruno il presidente del consorzio di tutela del pomodoro IGP di Pachino Lentinello e ancora l'assessore regionale all'agricoltura Edi Bandiera presenti anche i vertici della locale associazione anti-racket il tutto per dire basta alle mafie è stato sottoscritto un protocollo per la legalità avrà una durata triennale e dunque il territorio dà una risposta precisa a quanto avvenuto nelle ultime ore e negli ultimi giorni dall'attentato incendiario ai danni della ditta fortunato alle minacce di morte al giornalista Paolo Borrometti all'attentato ai danni dell'avvocato Quattropani ognuno è chiamato a fare la propria parte per quanto di competenza iniziative importanti di una comunità civica ma anche delle istituzioni che si stringono attorno in questo caso a un'azienda ma soprattutto a un territorio che grida necessità e urgenza di piena legalità ma sono certo che così come non sono mancate le risposte delle forze dell'ordine sono certo che non continueranno a mancare non c'è libertà senza legalità l'illegalità significa come dire impedire ciascuno di noi di essere liberi e siccome la libertà è come l'aria senza la libertà noi moriamo ecco perché rivendichiamo la libertà e per rivendicarlo dobbiamo contrastare l'illegalità l'obiettivo principale è dire no a ogni evento e ogni fatto criminoso e anche quello di presentare l'apachino vera l'apachino che si alza l'apachino laborioso e oggi questa massiccia presenza ci fa capire che la maggior parte sicuramente degli abitanti di Pachino sono persone che lavorano che producono eccellenze per cui passare come territorio in cui esistono e succedono solo certi fatti non ci va bene e la risposta della cittadinanza oggi mi fa capire che siamo sulla strada giusta per dimostrare che siamo persone laboriose che ci alziamo la mattina e che vogliamo lavorare nel modo giusto nel senso giusto e nel rispetto della legalità siamo qui tutti perché ognuno deve fare la sua parte la deve fare chiaramente le forze dell'ordine la devono fare le istituzioni ma soprattutto la deve fare il cittadino e l'imprenditore questo è il messaggio che dobbiamo lanciare Ennesima aggressione è avvenuta a personale sanitario sempre in Sicilia questa volta è avvenuta ad Agrigento ed è legata ad un elemento che faceva parte della commissione invalidi un 32enne che poi ha confessato ha riportato frattura ad un polso è stato denunciato per lesioni personali gravi in pratica ha colpito un elemento che faceva parte della commissione invalidi vediamo il servizio era apparso fin da subito nervoso e alterato il mancato riconoscimento di una patologia e quindi di una certa percentuale di invalidità lo ha poi letteralmente mandato fuori di testa scatenando la sua furia protagonista di questa triste vicenda è un 32enne originario di Port Empedocle che ieri mattina si è presentato nella sede dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento interrompendo lo svolgimento dei lavori della commissione riunita per il riconoscimento dei benefici di invalidità civile e aggredendo un operatore amministrativo della stessa azienda con inaudita ferocia prima lo ha colpito con calci e pugni lasciandolo in una pozza di sangue poi al sentir delle sirene e delle volanti la fuga immediati soccorsi nei confronti del 50enne dipendente dell'ASP i medici del San Giovanni di Dio di Agrigento dove è stato trasportato d'urgenza gli hanno riscontrato diverse lesioni ma soprattutto la frattura del cranio sciogliendo la prognosi soltanto oggi il 32enne che ha riportato durante l'aggressione anche la frattura del polso dopo la fuga si è andato a consegnare al commissariato frontiere di Porta Empedocle guidato dal vice questo raggiunto Cesare Castelli così è scattata la denuncia per lesioni personali gravi interruzione di pubblico servizio violenza privata e minaccia pubblico ufficiale dura la reazione del commissario dell'ASP Gervasio Venuti che ha definito sconcertante la vila aggressione e che già si è attivato in sinergia con il questore Maurizio Auriemma a prendere provvedimenti in materia di sicurezza a breve infatti saranno riattivati i presidi di sicurezza come quello del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio Degrigento riteniamo che questa escalation di atteggiamento violento e oltremodo spropositato nei confronti dei lavoratori del pubblico impiego sia il frutto di una campagna denigratoria perpetata nei confronti dei lavoratori che si ritengono debbano essere al servizio dell'utente a prescindere dal fatto che ci sono regole e certamente ci sono anche dei tempi di rispettare crediamo che debba essere proprio l'apparato politico a ricondurre a sé le proprie responsabilità senza scaricare sugli altri il mancato rispetto di norme e tempistiche che lo ribadiamo e anche abbastanza fortemente ciascun utente deve rispettare poiché oltre al legittimo diritto di richiesta del servizio ciascuno ha il dovere di rispettare uomini e norme parliamo adesso di spettacolo parliamo di un film questa sera il lancio è un film che parla di Catania si chiama Transfert a presentare l'opera cinematografica sarà il regista catanese Massimiliano Russo è parte del cast artistico vediamo nel servizio di cosa si tratta un'immagine insolitamente cupa e misteriosa un volto di Catania nuovo e moderno è questo lo scenario che fa da sfondo alla trama dell'opera cinematografica Transfert scritta dal regista e sceneggiatore catanese Massimiliano Russo Transfert è un thriller psicologico accolto con grande entusiasmo dalla critica nazionale ed internazionale protagonista della scena è Stefano un giovane psicoterapeuta che ancora alle prime armi si confronterà con pazienti dalle problematiche complesse ha preso due sorelle in cura si affare da cornice è lo sterminato ed intrigante mondo della psicoterapia che si rivelerà uno strumento utile ma altrettanto problematico è un argomento che mi ha sempre affascinato poi ho l'ho fortuna di avere tanti amici che fanno questo di mestiero tanti amici sono degli psicoterapeuti quindi da un confronto da un continuo gioco di provocazioni di rimandi ma se a uno psicoterapeuta successe questo ma se in studio successe una cosa del genere tu come ti comporteresti? Intanto cresce l'attesa per il lancio siciliano del film in programma per stasera al Cinema King che presentato in anteprima al Roma Web Fest ha affascinato la critica guadagnandosi ben 10 minuti di applausi ma i riconoscimenti non finiscono qui Transfert ha ricevuto numerosi premi tra i quali anche il Gold Movie Awards che la produzione ritirerà a Londra l'anno prossimo è un film che speriamo possa sorprendervi cioè il nostro obiettivo è quello di come dire regalare allo spettatore un'esperienza abbastanza intensa abbiamo lavorato molto sulla sceneggiatura sui personaggi sulle interpretazioni con gli attori e speriamo che insomma possa essere un film che lasci il segno insomma quella di Stefano è una sfida intellettuale che riuscirà a coinvolgere anche il pubblico la verità magari è riuscire a farsi qualche domanda in più ed è anche quello che speriamo succeda agli spettatori che guardano Transfert cioè poter regalare qualche domanda in più qualche spunto di riflessione su un argomento tanto affascinante come la psiche umana ecco linea alla regia per la pubblicità torniamo subito dove parleremo di sport per la pubblicità Grazie a tutti Veri affari su mobili, cucine, camere da letto, lampadari, articoli da regalo Playa Mercato e a Catania in via Quicella Porto 25 Sconti veri fino all'80% ma corri subito, quantità limitate Amore, non dirmi neanche dopo anni che tutti i suoi regali ti hanno sempre fatto schifo Infatti siamo davanti al totem dei coupon, così i regali te li fanno quelle zagareton Geni, ma che fa te lo sei sentito? E vedi, io sono come il coupon e ti regalo ogni giorno il mio affetto Bello Peccato che per questo regalo scontrino per il cambio non ce n'è Grazie a tutti Grazie a tutti Parliamo di calcio e lo facciamo parlando subito del Palermo Che si prepara per la prossima partita contro la Cremonese in casa Si giocherà sabato, prezzi popolari per i tifosi con le curve a 2 euro e la tribuna Monte Pellegrino a 5 euro Intanto Tedino continua la preparazione a bocca di falco Roberto Chifari 8 partite e 8 finali per agguantare un posto che vale la Serie A L'Empoli a più 9 al momento sembra irraggiungibile Piuttosto c'è da difendere il secondo posto dal Frosinone pari ai punti ma in svantaggio sul Palermo negli scontri diretti Dietro invece Bagarra, Parma e Perugia hanno fatto un incredibile recupero E se consideriamo anche Bari, città delle Venezie Il rischio di trovarsi ai playoff potrebbe giocare a brutti scherzi La prossima giornata di campionato dirà molto Il Palermo riceverà in casa la Cremonese Il Frosinone che vuole arrivare al big match di Empoli Nella migliore condizione possibile avrà la sfida più difficile Incontrerà lo Spezia che lo scorso weekend ha frenato l'Empoli Proprio i toscani invece se la vedranno con la Pro Vercelli e il Castellani Il Parma sarà impegnato con il Cittadella Squadra in piena lotta playoff Insomma la partita più interessante si giocherà proprio al Barbera Per capire se la squadra di Tedino dopo la sconfitta di Parma E il pareggio con il Pescara può tornare alla vittoria Tedino non ci pensa In testa solo la migliore formazione da mettere in campo Si parte dal 3-5-2 Quel modulo che garantisce migliore copertura in campo Coronado a girata collante tra 100 campo e attacco Da valutare se il tecnico deciderà Se puntare in maniera decisa su Lagumine e Nestorowski Oppure solo a uno dei due Prosegue intanto la campagna di prezzi popolari Lo stadio Barbera Anche contro la Cremonese Fino alla fine della stagione I biglietti di Curva Nord e Curva Sud costeranno 2 euro I biglietti di Tribuna-Monte Pellegrino 5 euro Sabato si attendono alla favorita almeno 15.000 spettatori E veniamo al Catania che pensa già alla sfida con la Caragas Si giocherà a Siracusa Tra l'altro sarà la diretta che Ultima TV trasmetterà A partire dalle 14 I tifosi però ci credono o forse ci credono un po' meno Nella promozione diretta Noi questa mattina siamo andati in giro per Catania Per sentire un po' i commenti Archiviato il pari del Massimino contro la Juve Stabia Il Catania guarda avanti Al match di domenica Siracusa contro l'Akragas Lucarelli e i suoi non vogliono smettere di crederci Ed in città i tifosi si dividono Il Catania ha sprecato troppe occasioni Speriamo che ce la possa fare Però che il Lecce faccia ancora passi falsi La vedo dura Qual è il giocatore secondo te che può essere decisivo In questo finale nel Catania? Speravo fosse Russotto Ma nell'ultima partita ha giocato malissimo Credo che potrebbe essere Mannè Io do il 20% massimo Il resto tutto il Lecce? Addirittura presumo che le partite che restano Possono ancora danneggiare la classifica Perché Matera, Rende e Trapani non sono gli ultimi arrivati E l'ha dimostrato domenica scorsa contro la Juve Stabia Il Catania ce la può ancora fare secondo te per la promozione diretta Oppure il pareggio con la Juve Stabia è un po' complicato? Un po' ha complicato le cose Però la speranza è l'ultima a morire Speriamo anche che il Lecce faccia un altro passo falso Più che altro vedo che sia possibile salire tramite i playoff Comunque ormai il Lecce credo che sia comunque più spinto rispetto al Catania Però diciamo che con le battute di arresto che ha avuto il Lecce Il Catania ha anche sprecato qualche occasione No, no, io ci credo al Catania Perché comunque è una buona squadra e gioca bene Però ultimamente ci sono rimasto male Perché potevamo vincere contro la Juve Stabia Però lo 0-0 non me l'aspettavo Sì, ancora ci sono comunque 5-6 partite se non sbaglio Quindi 4 partite Quindi ci sono ancora 15 punti, 12 punti Il Catania sì, sì, ce la fa Ha le qualità, la formazione giusta Non è come quella dell'anno scorso Quindi ce la faremo tranquillo Il Lecce ora perde Lucarelli deve far giocare di più a Russotto Secondo me è il giocatore giusto Come Ripa non è male Opinione discordante Ce la faremo, non ce la vedremo Staremo a vedere naturalmente Il proseguo del campionato Già a partire dalla prossima domenica Parliamo adesso di Catania Beach Soccer Che è partito alla volta dell'Iran Perché da domenica Disputerà l'Eurasia Cup Che è una competizione internazionale Che vede in scena le migliori squadre mondiali Parte ufficialmente oggi La missione Eurasia Cup Per il Catania Beach Soccer Il gruppo rossazzurro inizia la sua stagione Con un calendario ricco di impegni ed obiettivi Subito una competizione internazionale Parecchio stuzzicante L'Eurasia Cup in programma in Iran Per un 2018 che vuole essere l'anno degli etnei Un girone che vede oltre Catania Anche i russi del Locomotive Mosca Gli spagnoli del Levante E gli iraniani nel Mogavemat Tutte compagini di grande livello internazionale Gli iraniani sono i detentori del trofeo Nell'edizione scorsa I russi, i primi avversari nell'esordio di domenica Vantano successi al Mundialito E nell'Euro Winner Cup E gli spagnoli sono compagine giovane e grintosa L'obiettivo del confermatissimo coach Fabio Panizza È quello di testare la squadra in vista dei prossimi impegni Su tutti quella Euro Winner Cup Sempre inseguita dai rossazzurri Diversi rinforzi ufficializzati nelle ultime ore Si tratta degli esperti brasiliani Mauri Signo e Gil Il peruviano Veles Moro E il difensore iraniano Ramesan Rossazzurri che affronteranno la competizione Con il logo del Catania Calcio sulle maglie Frutto di un connubio siglato pochi giorni fa Tra le due società Parliamo adesso di uno sport Che dalle nostre parti Non ha mai attecchito moltissimo Il football americano Che naturalmente è lo sport nazionale degli States Ma ci sono gli Elephants Catania Che in questo momento sono vicini All'accesso ai playoff Una squadra comunque che è una lunga tradizione Domenica alle 15 Saranno a Catanzaro E cercheranno il successo Per centrare proprio la qualificazione Vediamo Nella Catania sportiva c'è una realtà Che continua a farsi strada Con vittorie ed entusiasmo Si tratta degli Elephants Nel football americano Uno sport di grande tradizione Che regruppa tanti appassionati E i ragazzi guidati Dall'head coach Renato Gargiulo Si trovano ad un bivio Per quanto riguarda la loro stagione Dopo la netta vittoria Contro i cugini del Cardinals Palermo Per 20 a 0 Nelle tre settimane di riposo I rossoneri sono chiamati domenica alle 15 Alla trasferta di Catanzaro Contro i Black Tide Una gara da non sbagliare assolutamente Vincendo infatti gli Elephants Staccherebbero il pass Qualificazione per la post-season E giocarsi all'ultima giornata Il primato contro gli A.K. Crotone La sconfitta invece rimanderebbe Tutto all'ultima giornata Nella seconda trasferta consecutiva In Calabria Tutto ancora aperto dunque Con un gruppo infarcito di giovani Ma di qualità Che hanno dimostrato tutto il loro valore Nel normale percorso di crescita Una squadra guidata dalla passione Dalla sana competizione Ma non dalla pressione Per questo coach Gargiulo Guarda con ottimismo al prossimo match Con l'obiettivo di essere all'altezza del compito E solo come conseguenza vincere Nelle ultime settimane L'infermeria si è svuotata Con recupero di diversi elementi Rimasti fuori per infortunio Il sogno playoff è alla portata Step dopo step Testa al campo sportivo Querto di Catanzaro Ultima TG Si chiude qui Grazie per l'attenzione Prossimo appuntamento Alle 17.30 Con Ultima News A più tardi Alle 17.30 Alle 17.30 Grazie.